Salve, sono il dottor Maniglia, specialista in chirurgia plastica. Sono il direttore del poliambulatorio specialistico Cittadella, mi sono laureato e specializzato a Torino, ho perfezionato la mia evoluzione dal punto di vista scientifica all'Università di Pavia, ho fatto corsi all'estero e ho potuto in questo modo arricchire il bagaglio culturale e l'esperienza dal punto di vista tecnologico che è assolutamente indispensabile nell'ambito della nostra attività. Siamo presenti sul territorio torinese da oltre 30 anni come monospecialità in chirurgia plastica, che si è affiancata successivamente in odontologia estetica, ma anche altre specialità come la chirurgia vascolare, l'ortopedia, la cardiologia, la dermatologia, che possono tornare utili nel percorso terapeutico dei nostri pazienti. All'interno della nostra struttura è possibile eseguire interventi chirurgici ambulatoriali in due sale operatorie autorizzate dall'ASL per questo tipo di interventi, l'assistenza al paziente viene data dai nostri anestesisti, oltre che dal personale sanitario e paramedico che è sempre presente ogni qualvolta si eseguono piccoli interventi in anestesia locale o in sedazione. Per tutti coloro che volessero approfondire i concetti relativi alla chirurgia plastica, sia nell'ambito strumentale con le apparecchiature laser, piuttosto che non radiofrequenza o di atermocoagulazione programmata o computerizzata, o nell'ambito dell'odontologia estetica o in tutte le altre specialità, la dermatologia, i nostri specialisti vascolari, ortopedici, cardiologi, potrete raggiungerci nella nostra sede di Torino, presso il poliambulatorio specialistico Cittadella.